Ciao, oggi con Pasta Maker prepariamo una buonissima pasta ripiena, e cioè i raviolini ripieni di carne. Buona visione! Prepariamo i nostri ravioli ripieni. Per prima cosa inseriamo la farina nella Pasta Maker, chiudiamo il coperchio, selezioniamo l'impasto uova e avviamo la macchina. La macchina ora l'abbiamo. Prepariamo i liquidi, in questo caso ho messo le uova, quindi sbattiamo le uova, sono 200 grammi di farina di semola più 2 uova sbattute. E quindi una volta avviata la macchina aggiungiamo appunto le uova sbattute e la macchina continua a mescolare. Continua, continua a mescolare, nel frattempo prepariamo lo stampino per i ravioli. Io ho usato questo bellissimo della Tescoma, che fa dei ravioli tondi e ne fa circa 10. È necessario prima di fare i ravioli infarinare sempre lo stampo, altrimenti i ravioli si staccano con difficoltà e si può rovinare tutto il lavoro fatto. Quindi stendiamo bene tutta la farina e adesso procediamo. Man mano che la pasta, la macchina estrude la pasta, vediamo che viene fuori. Naturalmente la prima che viene fuori la buttiamo via perché non viene mai perfetta, quindi la facciamo estrudere due volte. Io faccio così e se necessario all'impasto aggiungiamo un pochino di acqua, teniamola sempre pronta perché può risultare secco i 200 grammi di semola più 2 uova. Aggiungiamo sempre, cioè se necessario, un pochino di acqua. Quando vediamo che la sfoglia viene bene, l'astica abbastanza morbida, la facciamo uscire per giusto quello che ci serve. In questo caso una sfoglia occupa metà dello stampo dei ravioli perché la lunghezza della sfoglia non copre tutto lo stampo. Quindi una metà. Allora, fermiamo la macchina, tagliamo la nostra sfoglia e copriamo il nostro stampo. Con la mano ci aiutiamo e dopo aver fatto lo spazio dentro, ci aiutiamo con le mani e aggiungiamo il nostro ripieno. A ogni buco aggiungiamo il nostro ripieno precedentemente preparato. Ecco qua, lo sistemiamo per bene. Non ne mettiamo troppo, ma nemmeno troppo poco, diciamo leggermente sotto il bordo. Continuiamo così, lo schiacciamo con il cucchiaino. Procediamo adesso a bagnare tutta la parte laterale. Quindi dobbiamo bagnare bene con un pennello i bordi. Quindi tutti i bordi orizzontali e verticali, fila per fila. Altrimenti il raviolo non si attacca bene. Quindi con molta cura e pazienza bagniamo i lati di tutta la nostra sfoglia inferiore. Nel frattempo abbiamo avviato la macchina e continua l'altra estrusione della sfoglia superiore. Procediamo. Aspettiamo che la macchina estruda tutta la sfoglia che ci serve. Eccola qui. Ripeto, io ho messo 200 grammi di farina, 2 uova e qualche cucchiaio di acqua. L'ho fatta estrudere due volte. La prima l'ho tolta perché viene male. E poi ho fatto fare l'estruzione fino a quando la sfoglia non mi soddisfava. Allora, con l'altra sfoglia riempio l'altra metà dello stampo. Così faccio dei ravioli, ne faccio 10. Riempio bene tutto lo spazio dei ravioli con il mio ripieno. Io ho fatto il ripieno di carne, ma si può fare benissimo di zucca, di ricotta spinaci, di funghi e burrata, di tutto quello che la nostra fantasia ci suggerisce. Bagniamo sempre i bordi con il pennello. Bene, bene, bene. Laterale, fila per fila. Tutto. In modo che la sfoglia aderisca perfettamente. Procediamo con l'altra estrusione. Ecco, che viene fuori. La tagliamo. E procediamo al... Fermiamo la macchina e procediamo al formare i nostri ravioli. Quindi una metà, la sistemiamo bene sopra. Continuiamo a far uscire l'altra sfoglia. Vediamo che viene fuori. In modo che abbiamo... Realizziamo 10 ravioli. C'è chi... Ho visto su internet che molte signore riescono a metterlo tutto sullo stampo. Io non ci sono riuscita. Mi venivano dei ravioli veramente brutti. E quindi l'ho fatto in due volte. Quindi in quattro strisce. Tagliamo. Sistemiamo l'altra sfoglia sopra. Aggiustiamo con le mani. Procediamo con il mattarello formale raviolo. Mi raccomando con un po' di forza ma non troppa. Stendiamo bene. Togliamo la pasta in eccesso. E delicatamente. Solleviamo. E facciamo uscire i nostri ravioli. Guardate che belli. Bellissimi. Mi raccomando infarinate sempre prima di ogni... Cioè prima di mettere la sfoglia. E poi procedete come fa. Come abbiamo visto. Siccome sono un po' attaccatici. Io con la rotella li stacco. Sempre delicatamente. E li distribuisco sul mio tagliere. E ho dei ravioli bellissimi. Buonissimi. Belli asciutti. E posso procedere a finire tutto l'impasto e tutto il ripieno. Se ti è piaciuto il mio video. Iscriviti al canale. E metti un mi piace. Ciao.